Un saluto a tutti i campanari di YouTube, Dulcins in fundo, le campane di Castiraga Vidarno, ascolteremo la distesa completa per la Santa Messa Festiva della Trevicesima Domenica di Tempo Ordinario. Con questo video un augurio a tutti i campanari di YouTube di una buona domenica e anche di una buona solennità dei Santi Pietropaolo, ormai siamo entrati nel prefestivo, anche se so che non si celebra la liturgia vigiliare della solennità, ma la domenica, però il video magari andrà in rete domani, quindi ne approfitto anche per una buona solennità dei Santi Patroni di Roma. A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.